Salve a tutti ragazzi e bentornati su QDSS.it. Questa settimana partiamo subito con un interessante editoriale riguardo all'uscita di Red Dead Redemption 2. Anche parlare dei testicoli dei cavalli ha un suo perché. Perché quando aspettiamo un gioco ci interessa qualsiasi informazione a riguardo, compresa la reattività o meno di elementi accessori come i testicoli equini? Fondamentalmente perché siamo esseri curiosi, ma come diceva Oscar Wilde, il pubblico ha un'insaziabile curiosità di conoscere tutto, tranne ciò che vale la pena di conoscere. Ed è forse questo il principio che ha messo Rockstar in condizioni di darci una marea di informazioni, facendoci arrivare al contempo quasi a bocca asciutta fino al momento in cui iniziavano a piovere le prime gocce di recensioni e a comparire sul web i primi veri gameplay. La software house di GTA, Max Payne 3 e Red Dead Redemption come al solito è riuscita a far filtrare esattamente le informazioni giuste per far sentire i giocatori appagati senza di fatto dire loro granché, al punto che siamo arrivati al day one con più voglia di prendere i pad alla mano che di riempirci la testa con le recensioni di altri. E non importa se alcune di queste informazioni riguardano elementi marginali come i testicoli dei cavalli di cui si è tanto parlato nei giorni scorsi, oppure sulla mole di lavoro di quei poveri dipendenti che ora immaginiamo essere tornati alle proprie famiglie come ostaggi appena rilasciati, perché di fatto ci sembra di essere già entrati nello spirito del gioco, pur avendone visto poco e niente. La magia di Rockstar però è stata quella di veicolare talmente tanto bene le informazioni da ridurre al minimo le critiche che potevano essere mosse prima del lancio. E anche questo, signore e signori, è servito per far sì che per quanto mi riguarda il titolo fosse un successo già prima del lancio. Dragon Trainer, il mondo nascosto, il trailer ufficiale in italiano. È di poche ore fa il regalo di Universal Picture Italia e Dreamworks per tutti i fan della saga di animazione. Un trailer del terzo film in arrivo, Dragon Trainer, il mondo nascosto. Tratto ancora una volta dai libri di Cressida Cowell, il mondo nascosto sarà il capitolo conclusivo della storia. L'intera razza dei draghi, il villaggio di Berk, la stessa amicizia tra Hiccup e Desdentato, sono adesso in serio pericolo. Al capovillaggio, affiancato sempre da Astrid e dagli altri amici, resta una sola cosa da fare, partire per un viaggio verso un luogo leggendario. Non mancherà per il draghetto nero l'occasione per la gloria e anche un pizzico di romanticismo con l'entrata in scena di una furia buia femmina. Diretto da Dean de Bluie, Dragon Trainer, il mondo nascosto, arriva al cinema il 31 gennaio 2019. Siete pronti a volare di nuovo sulle ali di una furia buia? Il CERN si ferma per un aggiornamento importante. Ieri, all'interno dell'anello lungo 27 chilometri che è il Large Hadron Collider del CERN, si è vista l'ultima corsa dei suoi protoni. I responsabili del progetto hanno abbassato l'interruttore per iniziare una lunga, delicata e complessa fase di aggiornamento. Fra i vari elementi candidati a questa rinfrescata ci sono nuove ottiche ad alta luminosità per l'LHC, che permetteranno un nuovo e migliore modo di regolazione dei magneti, così da aumentare la concentrazione dei fasci nei punti di collisione. Seguirà uno studio relativo al calore generato dai fasci futuri, che saranno naturalmente più intensi e che aumenteranno la temperatura del nucleo del magnete. Naturalmente l'LHC non è stato spento del tutto. Sul sito del CERN è stato spiegato che sono in programma altre 4 settimane di lavoro che riguarderanno atomi di piombo. Al prossimo episodio